Eccolo che arriva Per il tempo sono in compagnia di Angela Wu e Lisa Hoffman Che ora stanno controllando il suo peso effettivo Tra pochi minuti i suoi assistenti Ci hanno svelato che ci sono più di E' davvero di poco incredibile Eccolo che ora ha sul corpo 29 kg di ha Quindi io vi ricordo che questi sono 290.000 La bilancia è Siamo a 63 kg C'è la santa ragazzo 630.000 euro in una cosa Ah si sta scuotendo Si sta liberando se non penso Vuol dire che ha deciso che quello è il suo limite di sopportazione grande Appena finito Adesso i giudici ci diranno bene quant'è E ora si sta per scrollare tutte le api di dosso Mamma mia È una fase delicata Poi verranno raccolte le api di questo telo infatti Va 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 guardate Si scuote Poi inizierà a camminare per allontanarsi dallo sciame Si ma ha deciso di scrollarsi le api di dosso In questo momento lo stanno affumicando Giovane non hai paura di queste cose Sessanta tre punto sette chili Ed è un nuovo Guinness World Record E vai Bravo 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 Impressione Grazie a tutti Grazie a tutti